In questo video ho fatto una challenge dove potevo solamente fare dei ponti con la TNT Jump e dopo diversi tentativi e diversi fail, come sarà andata a finire? Come non ricominciare a portare Minecraft se non con un video challenge? Oggi ragazzi con questo bel video di Sclery vi chiedo 5 like, abbiamo bisogno di 4 di oro perché dobbiamo craftare le TNT, premetto che faccio schifo nelle bad wars e non mi dite nulla non so giocare e come potete vedere sono sui pixel, quindi ci sarà un delay incredibile ragazzi io piazzo questa TNT, si ce l'ho fatta, non ci credo ragazzi non ci posso credere che cosa ho fatto però adesso per tornare devo fare un sacrificio incredibile ragazzi ho imparato il timing più o meno, mi sono esercitato pochissimo è incredibile come io sia riuscito ad imparare abbastanza il timing posso fare solo TNT Jump, nemmeno le Fireball Jump solo TNT ragazzi andiamo a prendere il loot di questo che magari ha un po' di roba cercando di non morire dobbiamo fare un poco più basso la TNT perché se no qua ci moriamo male ogni volta cioè ragazzi mi verrebbe veramente di saltare però non posso, devo per forza fare così per scendere da un ponte ragazzi mi viene da piangere non posso attraversare questo ponte se non con la TNT mi viene da piangere ragazzi ho un'ultima TNT sì, io spero di piazzarla bene questa TNT perché 5 diamanti non lo il copo è scoppiato oh, arriva uno fra, io non posso attraversare il ponte amico, non posso attraversare il ponte per favore non fammi brutti scherzi perfetto ragazzi siamo morti malamente siamo qua in un altro round allora io direi di pushare quello lì che non so che colore è è rosa dovrebbe essere no, non è rosa è grigio andiamo a pushare quel grigio ma abbiamo bisogno di 23 stack di oro siamo pronti ragazzi 1, 2, 3, 4, 5 ragazzi ci abbiamo fatto dream moment, dream moment scappa, scappa, scappa tu capo vai amico tu vai fuck e 1, 2, 3, 4, 5 let's go è stato troppo facile eccolo là che ci pusha un pro player siamo fottuti niente non mi ha visto non mi ha visto quanta vita c'hai si bravo continuo a drag cliccare tanto io sono qua non posso fare niente non mi posso muovere si ma bello con l'armatura in diamante bello e siamo qui nell'ultima partita ovviamente che mappa poteva mai capitarci la più bella mappa per fare il tnt jump ma veramente ragazzi c'è pure il generatore lento 1, 2, 3, 4, 5 ha funzionato non so come ma ha funzionato 1, 2, 3, 4, 5 amico mi droppi una tnt lo prenderò per un no no ti prego ora santa what the fuck andiamo e 1, 2, 3, 4, 5 scoppia ok è scoppiata per fortuna devo fare un secondo in più mi sa 1, 2, 3, 4, 5 è scoppiata io ti faccio cadere giù perfetto sperando che non si teletrasporta come ho visto qualche secondo fa dai passiamo alla endstone subito rompe rotto rotto muori 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 let's go abbiamo di nuovo 4 tnt possiamo tornare in base che bello 1, 2, 3, 4 vengo troppo alto ho perso mezza vita e qua ne sono 4 praticamente la challenge sarà riuscire a vincere con poco oro e c'è già quello che penso che andrà a pusharci in questo esatto momento e lui ha già a quanto vedo il triplo del mio oro è un equipaggiamento sicuramente migliore mi sta venendo a pushare sì sì ma se magari ti spostassi anzi no scendi scendi amico no però dai fra fra un po' di pietà mannaggia fai schifo va bene il mentre noi possiamo provare anche a divertirci a farlo cadere un poco tipo fare così appena passa vai me lo ricordavo più lento sinceramente e siamo a 5 tnt ragazzi non posso pusharlo se non ho almeno 10 tnt perché sono sicuro che ci muoio malamente ma questa volta è lui che mi pusha fuck por... sì ma c'ha velocità sharpness sto ca... e niente ragazzi dopo diversi tentativi è finito così e io vi ricordo di lasciare like iscrivervi al canale condividere e niente vi saluto ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao ci vediamo a noi ciao Ё